Lucrezia si lamenta con Jessica, perché starebbe in un gruppetto che non la considera proprio per cucinare, ma la usano soltanto per lavare i piatti. Lullu dice che avrebbe cucinato una pasta buonissima, ma il suo gruppo non glielo ha permesso e ora le tocca lavare i piatti. Cosa che non farà questa sera così imparano. Jessica le dà torto e Lullu inizia a sbraitare. Viaggio la ferma dicendo stai buona. Ancora litigi in cucina a causa dei gruppi che non si organizzano tra di loro prima di preparare pranzo e cena. E nessuno sceglie mai di lavare i piatti. Canale YouTube Fabio Pecce.